Uh che divertente sarà questo video, sono più malfidente delle influencer malfidenti Uno dei prodotti davvero più virali di She Glam Andiamo avanti, altrimenti vi parlo solo di loro, come quando ci si infatua di qualcuno Io sono infatuata dei prodotti in crema di She Glam attualmente Pensate voi come sto messo Guardate che carineria, che sciicheria Diktat Eriki Obiani, ma fidatevi che con i miei diktat vi trovate poi sempre bene Mi toccherà rivalutare anche lui, sono stata troppo diffidente, un po' in stile DSI Eriki Oba influencer al contrario, scusami, probabile che mi convertirò Ragazzi, vi coloro i denti, aiuto, sarò vado via Ma buongiornissimo o buonasera a tutti voi carie e care Io non vedevo davvero l'ora di fare questo video Io qui ho una mega borsa che contiene tutti i prodotti più virali di makeup di She Glam E noi oggi li andiamo a provare e vi dico io che cosa ne penso Sigla Cominciamo subito, questo video appunto si strutturerà con i prodotti virali Che avete visto più spesso apparire sui social appunto di She Glam Ci sono diverse cose che io ho già provato e che conosco bene Ma ci sono anche delle cose nuove che She Glam mi ha inviato Quindi io di volta in volta vi dico naturalmente se il prodotto lo conosco bene E vi do la mia opinione oppure se è la prima volta E quindi in quel caso si tratterà di una first impression Prima di cominciare ci tenevo a ringraziare tantissimo Joy Force Che è un brand di gioielli davvero davvero molto bello Sono delle ragazze italiane appunto che si occupano della realizzazione di questi gioielli Hanno un sito e secondo me trattasi proprio di prodottini con un rapporto qualità prezzo super interessante Tra l'altro loro adesso hanno anche un calendario dell'avvento In cui è presente questo collier stupendo Perché con un ottimo prezzo vi portate a casa sette caselline tutte contenenti gioielli Ma io direi che è l'ora di cominciare Uh che divertente sarà questo video Anche perché She Glam sappiamo tutti è di vasto interesse Proprio perché abbiamo degli ottimi prezzi Ma devo dire che diverse cose mi hanno davvero davvero colpita Durante il corso di questi anni Partiamo però con dei prodottini che non ho mai provato Come per esempio il Good Grip Hydrating Primer Questo qui è un primer che aiuta a mantenere il makeup il più a lungo possibile Non ci sono siliconi e non ci sono oli al suo interno Quindi appunto non va ad ingrassare la pelle Ma promette di lisciarla e naturalmente idratarla Quindi di perfezionarla per poi andare ad accogliere ancor meglio il fondotinta Io direi che andiamo ad applicarlo Avete visto che ha un finish trasparente E sembra tipo un gel al aloe super fresco Promette di asciugarsi presto Ho anche dei brufoletti Quindi lo andiamo ad applicare anche sui brufoli per vedere se aiuta Nel momento in cui si asciuga Perché si asciuga presto come promette È confermata anche la questione del grip Quindi la pelle rimane un pochettino appiccicosa A me non servono i primer particolarmente appiccicosi Perché la mia pelle è normale Ma ci sono assolutamente delle pelli diverse dalla mia Come per esempio quella sfittica Che fa fatica a tenere il fondotinta Insomma la tenuta del fondotinta anche per la grassa è diversa Di conseguenza questo primer lo consiglio proprio a voi Da pelle mista barra sfittica Sino ad arrivare a quella grassa Sono molto curiosa di vedere se mi aiuta per la questione foruncoli Perché dove ci sono i foruncolini La pelle è più impura, più grassa Quindi il fondotinta scivola maggiormente Anche molto bello a livello estetico Sapete che io ci tengo sempre a queste cose Proviamo un altro prodottino Allora questa non è una vera e propria first impression Perché l'ho già provato Questo qui è l'ice queen plumping lip gloss Quindi trattasi di un lip gloss Che poi va a riempire le labbra Anzitutto è trasparente e molto bello anche lui Allora io non ho aspettato nessun minuto Manca un secondo Però già vedete che è un lip gloss Che va a rimpolpare nell'immediato Adesso lo lasciamo comunque a giro un pochettino Mentre lo applicate lui sa proprio di menta Però è molto molto piacevole E inizia a pizzicare sin da subito Che contiene proprio mentolo Anche olio di jojoba e olio di cocco Molto molto bello Il pizzicore è assolutamente accettabile Per capirci non vi fa male Come il Viper di Nabla Questo approvatissimo funziona Per quanto riguarda il primer Adesso vediamo come si comporta con il fondotinta Tutti i prodotti che vedrete in questo video Sono tutti in saldo Praticamente per tutto novembre Quindi io vi lascio il link qui sotto Dove quando cliccate Andate direttamente alla pagina Di tutti i prodottini in saldo Prima del fondotinta Andiamo anche a provare i correttori Vi faccio vedere Fair Quindi stiamo parlando del Complexion Boost Concealer La cui formulazione Mi sembra anche interessante Solo che vedete Dalla spugnetta sembra un peschino Che potrebbe andare bene Invece adesso vi faccio vedere applicato Eccolo qua È parecchio chiaro Soprattutto nel momento in cui lo vado ad aprire Ok avevo detto che era troppo chiaro Ok avevo detto che era troppo chiaro Invece potrebbe anche andare Caricare quindi sono più malfidente Delle influencer malfidenti Decisamente è portabile per me Però non posso non dirvi Che risulta più chiaro Sia rispetto agli swatches sul sito Che rispetto anche a come lo vedete Sulla spugnettina Ho un'altra colorazione Che è Chantilly E questa colorazione qua Dovrebbe essere ancora più peschina Quindi Chantilly La proviamo sull'altro occhio So cosa avevo quel giorno in cui li avevo provati Ma mi risultavano più chiari In ogni caso Il finish è parecchio matte Mi sento di non consigliarli per pelli mature Se cercate piallamento c'è e anche de brutto Però sapete che per l'anti age Non è consigliabile piallare troppo Perché si vedono le rughettine Adesso vi faccio uno zoom Sicuramente sono dei prodotti interessanti Che utilizzerei adesso anche per i foruncoli Altissima coprenza Sì 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 Questo ve lo devo confermare Davvero alta coprenza Per i foruncoli È la prima volta che lo sto provando Per quanto riguarda il contorno occhi Se cercate una copertura Praticamente totale E anche mattificante Sicuramente questo è il correttore per voi Per un anti age Probabilmente opterei Per un correttore più sottile e luminoso Per quanto riguarda il fondotinta Vado a prendere questo pennello A forma di zampetta di gatto Di fondotinta di She Glam liquidi Per adesso non mi hanno fatto impazzire C'è quello matte che non è male Assolutamente Però prediligo utilizzare qualcos'altro Sicuramente il fondotinta Che era andato virale Tempo addietro Che invece mi è piaciuto molto Perché è maggiormente idratante Infatti è sotto forma di balm È questo qui Lo Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm Che io utilizzo nella colorazione Fair Per capirci è un pochino il dupe Del famoso Good Apple di KBD Non so se vi ricordate Le colorazioni chiare di She Glam Sono molto belle Nel senso che anche qui dovete imbroccarle Però ci sono parecchie colorazioni chiare Con sottotono rosa Sottotono pesca Sottotono neutro Quindi questa cosa è sicuramente apprezzabile Procediamo con questo fondotinta qui Vedete è perfetto Per il mio incarnato E questo è il fondotinta di She Glam Che era andato anche virale Che io personalmente vi consiglio Adesso vi faccio vedere Il finish finale Spero riusciate a vedere Cerco di dirvi queste cose come sempre per aiutarvi Che per quanto riguarda la cialdina Poi applicato il fondotinta È più chiaro rispetto alla cialdina Io vi consiglio di prenderne uno Che vi sembra il vostro E di prendere anche la colorazione successiva Che magari da swatch o da fotografia Vi sembra un po' più scuro Ma in realtà poi aperto è più chiaro Qui stiamo parlando di un fondotinta Ad alta coprenza Praticamente i furuncoli Io qui avevo uno sfogo ormonale Sono completamente spariti Mi sono rimaste due macchie qui Sono completamente sparite Certo ho aiutato il tutto Anche con questi correttori Ad alta coprenza Che vi ho mostrato prima E che a questo punto per i furuncoli Sono davvero ottimi Questi vi consiglio per i furuncoli Non c'è altro da dire Cari e cari Questa base è davvero vampiresca Come piace a me Ma c'è anche questo pro È un fondotinta molto coprente Ma che non vi fa il mascherone secco Perché è anche idratante Vedete Bellissimo Prima di passare alla cipria Che sono super curiosa Perché è una cipria rosa Ve lo dico già Vado con un prodotto Che invece conosco Ed è la Brows on demand 2 in 1 brow pencil Appunto di Shiglam Che da una parte Ha il pennellino E dall'altra Ha la matita Voi vi ricordate Le mie amatissime Urban Decay Che spesso consiglio Anche in accademia E che non trovo più Le brow blade Ebbene Ce le ha fatte Shiglam Non c'era da immaginarselo Allora La colorazione Che ho io È chocolates E direi Che è perfetta Per il colore di capelli Che ho attualmente Vi faccio vedere Sia lo swatch a penna Che lo swatch a matita E ciò che vado a fare adesso Andare con la matita A riprendere l'ordine Della linea Del mio sopracciglio Qui sotto Quindi alzate il mento Questa è una tip Decisamente molto utile Provatela E poi fatemi sapere Sui social Se vi è piaciuta Praticamente Noi dobbiamo recuperare L'ordine E l'armonia Del nostro sopracciglio Andando a disegnare Una linea Che vada A congiungere Tutti i puntini Della radice Dei peli Guardate la differenza Tra questo sopracciglio E questo Praticamente Se vi va Potreste già uscire così E questo vi consiglio Di farlo Appunto Con una matita In micromina Come questa qui Di Shiglam E successivamente Se volete Aumentare Il volume E la pienezza Del vostro sopracciglio Andate invece Con la penna Qui parliamo Di prodotti Estremamente Scriventi Quindi anche Per quanto riguarda Questo prodotto Qui Ve lo iper mega Consiglio Perché appunto Lo conosco già Vi consiglio Anzi proprio Di andarci piano Perché scrive Parecchio Ho fatto tre tocchi E guardate Questo sopracciglio Rispetto a questo Quindi anche Per quanto riguarda Questa qui Questa ve la Iper consiglio E naturalmente Ci sono anche Altri colori Penso che Comprerò anche Gli altri colori Per il lavoro Fatemi sapere Qui sotto Con un commentino Con l'hashtag Sopracciglia On flick Se vi piacciono Io le amo Adesso parliamo Di uno dei prodotti Davvero Più virali Di Shiglam E stiamo parlando Del contouring In crema Ma in realtà Non c'è solo il contouring C'è anche Il blush In crema E anche L'illuminante Allora ragazzi Questi qui Io ve li promuovo Tutti In tutte le salse In tutti i colori Perché hanno Un finish Bellissimo Quindi rimanete qua Sia per blush Contouring E highlighting Perché Questi sono Pazzeschi E costano poco Allora Anzitutto Comincio con il Dirvi il pro Sono piccolini Molto carini E hanno la loro Spugnetta E questo Non è scontato Esistono Per il contouring Delle colorazioni Per persone Chiare Fredde Guardate Questo qui È il soft tan Quindi vero Contouring Altrimenti C'è anche Tony amber Se volete Un contouring Freddo Però Un pochino Più di carattere Vedete Tony amber È un po' Scuro per me E io Sono assolutamente Innamorata Del soft tan Se avete utilizzato Il pennello Per il fondotinta Non vi serve più Cioè Comunque Il contouring Si deve sfumare Con il fondotinta E potete Tranquillamente Utilizzare lui Allora Con tre Tocchi Date un'occhiata Date un'occhiata A come Si è Sfumato Perfetti Anche per l'anti age Perché Sono da preferire Le creme Rispetto Alle polveri E Guardate che roba Cioè Sembra che voi Siate Più magri Sembra che voi Abbiate lo zigomo Più figo Metto un po' Di Tony amber Quindi Quello Un po' Più di carattere Per capirci Che è Leggermente Meno freddo Però rimane Comunque tecnico Ha una puntina Di rosso In più Al suo interno Qui sulla fronte Così per dare Un po' Più di carattere Al contouring Fronte Così Proprio perché Non siamo mai Contenti Aggiungiamo Un pelo Di Tony amber Anche Qui sotto Sullo zigomo Per farlo Un po' Più cattivo Quindi voi Avete visto La versione Super leggera E potete Fermarvi lì Oppure Potete Stratificare In questo Modo E appunto Sono super Stratificabili Cioè io proprio Mi soffermo Su questi Prodotti Che secondo me Sono davvero Il must have Di Shiglem Andiamo avanti Altrimenti vi parlo Solo di loro Come quando Ci si infatua Di qualcuno Io sono infatuata Dei prodotti In crema Di Shiglem Attualmente Pensate voi Come sto messa Io mi fermo Qui cari e care Perché non so Ancora Che make up Occhi Andare a realizzare Ho un dubbio Quindi Scegliamo successivamente Blush e highlighting PS se vi interessa Sempre per incarnati chiari C'è anche golden sun Che non è grigio Grigio come soft tan Ma è molto più naturale Adesso dobbiamo parlare Cari e care Io ho Questa collezione Di harry potter Che è andata Decisamente virale Quest'anno E che potete Visionare qui Perché io ci ho dedicato Un video E vale la pena Cioè ve lo dico subito Anzitutto Perché è esteticamente Stupenda Le palettine Dedicate Ad ogni casata Sono Bellissime Anche a livello estetico E in quel video Io ne ho utilizzate E due Però C'erano queste due Hufflepuff E Griffondoro Che Mi ispiravano parecchio Però She Glam Mi ha inviato Anche questa qui Che è la Jay-Z Jigshow Eyeshadow Palette Molto bella Tra l'altro Perché è fatta Così a puzzle Che è Una palette nude Molto interessante E poi C'è anche La chroma zone Che anche lei È stata un prodotto Piuttosto Chiacchierato Quindi cosa Faccio Lasciatemi pensare Ho deciso Di partire Da lei Quindi dalla palette Di grifondoro Perché mi sono ricordata Che me l'avevate chiesta In parecchi E partiamo Con Coraggio Questo Questo marroncino Terracotta Che però è anche Un po' Scimmerino Vi ricordate che Queste palettine Sono parecchio Polverose Spolverano Non hanno Lo specchiettino Questo Volendo è un contro Però sono talmente Belle da collezione Che ce ne possiamo Anche fregare E io direi Proprio la scatola Non so se c'è ancora O comunque prendetevele Tutte e quattro Perché sono bellissime Bellissime Anche da tenere Proprio lì vicino Ai libri Come faccio io Allora Devo andare a stemperare Con un pennello pulito Questo colore Perché appunto Era molto Molto presente E volendo Mi aiuto con Zewing I panna Vi servono Sempre Per quello Sono sempre Utili Nelle palette Per sfumare Mentre sfumo Infatti Con l'occasione Vi ricordo Che io sono Docente In MBA Making Beauty Academy Quindi Una delle accademie Più rinomate Sul territorio Nazionale I corsi Con me Sono certificati E il mio Beauty and Bridal Nello specifico È un corso Di 91 ore Che vi permette Poi anche Di lavorare Negli store Ci sono molti Annunci lavorativi Che chiedono Minimo Un corso Appunto Professionale Di 91 ore Vi lascio il link Qui sotto Se volete iscrivervi Se volete venire A studiare con me E la MBA Making Beauty Academy A Milano Come sempre I miei corsi Sono a numero chiuso Perciò Se vi interessa Magari anche Per farvi Un regalo Di Natale Per voi stessi O per regalare Il corso A qualcuno Visionate Tutte le info Qui sotto Vi lascio Anche la mail Dell'Accademia Nel caso Aveste altre domande Vado anche Di Determination Che c'ha Proprio Il grifone Impresso Mi spiace Rovinarlo Ma dobbiamo Vado Vado a rendere Molto più rosso Il mio make up Il mio make up Bello Direi che sta uscendo Qualcosa di Decisamente Autunnale Vado a riprendere Gli stessi colori Anche qui sotto Quindi andiamo Proprio di Make up Sfumato Come piace A noi E adesso Andiamo di Bravery Ok È tipo Un oro Senza troppa Base Colore Proviamo a metterlo Con il ditino Ok Direi che ci sta Molto bello Mamma mia Cioè ma che make up Sta uscendo Con she glam Cari e care Cioè Make up Professionali Andiamo a vedere Un colore della Chromazon APS Questo qui Che attira Un sacco Che è tipo Un blu indaco Super mega Vi devo dire Che poi Aperto Mi ha Un pochettino Delusa Vedete Ha una base Nera Che Secondo me Fa perdere Un pochino Quel colorone Lì Perché Si perde Si perde Un po' Quindi Sicuramente È un bel colore Però Magari con una crema Nera sotto Con un primer Nero sotto Viene fuori di brutto Rimanete con me Perché magari La utilizziamo Sui social Della Chromazon Vado a prendere Il colore Più chiaro Perché appunto Lei si vende Come Palettona Da Trucchi Mega E per il dotto Lacrimale Vado con questo colore qua Ok abbiamo fatto bene Perché è decisamente Molto luminescente Io sono Sono molto Molto soddisfatta E vi assicuro Che avrò messo Un quarto d'ora Massimo A fare A fare questo Make up E per me è poco Perché io proprio Mi perdo con il make up A livello di ombretti Sconvolgitudine Has no limits La Chromazon Guardate Vi swatcho Anche qualche altro Colore Particolare Come per esempio Il verde e il viola Vedete che appunto Sono Molto belli Cioè Come proprio Scelta colori Poi Quando le applicate Loro C'hanno questo concetto Di essere Tipo Un po' Multichrome Infatti Questo verde Addirittura Ha una base Aranciata Bruciata E anche questo viola qua Secondo me Un po' Si perde Cioè il più bello Forse è questo verde qua E allora Qui cari e care Abbiamo L'eyeliner Di She Glam Che è pure Waterproof Guardate Che carineria Che scicheria Non l'ho mai provato L'ho solo Sguacciato Ha il pennino In feltro E via Molto molto bello Ricordiamoci Che è anche Waterproof Quindi sicuramente Appunto Ha un'ottima durata Ho scelto Di fare Questo eyeliner Molto sottile Perché poi Abbiamo anche Delle ciglia finte E sicuramente Lo andrò A Ad inspessire Però vi faccio Vedere anche Come esce Bene Una linea sottile Per chi ama Questo tipo di look E molto Preciso Ha la punta Che ti aiuta A fare Delle linee Invisibili Arriviamo Ad un punto Pseudo dolente Perché io mi ricordo Di aver Già provato Tempo addietro Il mascara Di Shiglam All in one Volume and length Mascara Quindi Da una parte Ha Lo scovolino Per il volume A clessidra Così E dall'altra Ha questo scovolino A banana Con i dentellini Che dovrebbe Concentrarsi Sulla lunghezza Ora Naturalmente Le proviamo Tutti e due Su un occhio Sull'altro Io mi ricordo Che non mi avesse Fatto impazzire Ecco Allora Volume A destra Questa è la prima passata Adesso Andiamo Con l'altro scovolino E Procediamo A sinistra E questa È la prima passata Con lo scovolino A banana Che dovrebbe Allungare Procedo ora Con la seconda Passata Mi toccherà Rivalutare Anche lui Sono stata Troppo Diffidente Un po' In stile Dsi Anche per lui Ma Lo vedremo Mi direte voi Anche per quanto riguarda Il finish Se vi piace Poi Eri Chioba Influencer Al contrario Che prima Parte Diffidente Dice che non le piace Una cosa E poi la rivaluta Quindi Veramente Non è un mascara Mega wow Infatti Lo zoom È per voi Scrivetemi Se preferite Quest'occhio Con le ciglia Volumizzate Che è vero Invece da questa parte Non vedo Questa grandissima Lunghezza Sono sincera Quindi a questo punto Credo di preferire Sicuramente La parte Volumizzante Perché oltre Ad annerire E ad allungare Volumizza pure E sì Lo rivaluto Anche perché È lunga tenuta È waterproof Una delle caratteristiche Dei mascara Waterproof È che magari Davvero Ti fanno dannare Per quanto riguarda Lo struccaggio Quindi sì Tempo addietro Non me l'ero filato Più di tanto Adesso Devo rivalutarlo Come vi ho detto Nel video precedente Che vi ha fatto Molto ridere In situazioni extreme Che voi avete pensato A dsi Cose varie Invece io pensavo Alla pizza Cari e cari Cioè con la bufala E pomodorini Che risale Calda Sulla faccia Mi è capitato Che mi si sciogliessero Dei mascara Quindi sicuramente Sto rivalutando Appunto I waterproof A lunga tenuta E anche sul lavoro Scusami Sono stata Troppo diffidente Adesso cari e cari Io vi faccio vedere Questa matita Perché è una delle mie Matite occhi Preferite Di sempre Trattasi Della chroma zone È bellissima In vertigo Cari e cari Non ci sta Con questo look Però è questo Viola cangiante Che diventa Anche un po' grigio E che diventa Anche un po' verde Che vi consiglio Assolutamente Sia perché È molto morbida Molto scrivente E anche molto Durevole Quindi perfetta Anche per l'interno Occhi E vi fa L'occhio L'iride dell'occhio Soprattutto se l'avete Verdastro Marroncino Palude veneta Come sempre Come il mio Molto bello Quindi questa Prendetela Diktat Eriki Obiani Ma fidatevi Che con i miei Diktat Vi trovate poi sempre bene Siamo arrivati al momento Tanto atteso Dei blush E preparatevi anche All'highlighting Perché quello sì Che è molto virale Attualmente Sto aprendo Una nuova colorazione Che è Rose Ritual È un rosa Parecchio Universale E anche qui Torno con il pennellino Quello da fondotinta Comunque bronzing E blushing Vanno A sfumarsi assieme Quindi potete Tranquillamente Fare così Guardate Come questi prodotti Si uniformano Con la pelle Sono proprio Delle creme Pigmentate Ma che poi Sembra Che il colore Venga da dentro Venga da voi Anche la grana Della pelle La texture Della pelle Non è evidenziata Bene Siamo giunti Al momento cipria E questa qui Cariecare La Hydro Touch Refreshing Setting Powder È una cipria Pazzesca Perché È rosa Anzitutto Non solo A livello di packaging Che è bellissimo Ma è proprio rosa Anche lei Quindi È indubbio Che si ispiri Alla Cherry Blossom Di Uda Beauty Che ho e adoro Ma fa anche fresco Sul viso Ebbene Sì Sento proprio Sento proprio Il frescolino Sulla faccia Quindi questa Deve essere Davvero Pazzesca Per l'estate Assolutamente Se la finisco Me la ricompro Senza ombra Di dubbio È un rosa Chiaro Che va benissimo Anche per le persone Chiare Cioè nel senso Che non è che vi faccia La faccia rosa Assolutamente Lo state notando È super interessante Anche per il contorno Occhi Perché andando Anche un pochino A rinfrescare Comunque ci fa anche Dell'effetto tonificante Mi sento di dire First impression Va bene Sarà anche una First impression Però Sicuramente La consiglierei Già ad occhi chiusi Allora Mea culpa Ho fatto vedere Prima questo illuminante Sui social Perché ci tenevo Davvero tantissimo A fare una First reaction Quindi l'ho già applicato Però adesso Ve ne parlo per bene E lo applichiamo Ancora meglio Qui stiamo parlando Cari e care Di un illuminante Che è andato virale Che quando lo prendete Vi arriva in questa scatolina Ed è Il Lunar Glow Highlighter Eccolo qua Questo non vedevo l'ora Che mi arrivasse Anzitutto perché è bellissimo A livello estetico E vi assicuro Cioè Non sembrano cheap Queste cose È veramente Bella La scatolina Qui c'è per l'appunto Questa luna Eccola qua E l'illuminante Sguacciato È questo Praticamente Sui social Lo stanno tutti quanti Mettendo così Cioè direttamente Dal pack E ti fanno vedere Vedete Che il luminante È brutto Ma proprio di brutto Quindi Questa cosa Sicuramente Ci piace un sacco Io ho cercato Di renderlo Un po' più portabile In primis Perché È comunque Un illuminante Freddo Quindi questa cosa Vi lega A questa iridescenza Per vinca Mi piace molto Anche il finish Perché è satinato Quindi non è che c'ha Il glitterozzo Per vinca Esce moltissimo Girandovi E ha anche un po' Questo effetto bagnato Che vi fa Lo zigomo Decisamente tridimensionale Vi piace? Scrivetemelo qui sotto Perché secondo me Questo Sì C'è un motivo Per cui è diventato virale È davvero Molto Molto Bello E particolare Andiamo a mettere Anche le ciglia finte Di She Glam E attenzione Attenzione Perché è la prima volta Che le apro Hanno la loro colla Eyeliner E anche Questo tool Per aiutarvi Ad applicarle Dietro ci sono Le istruzioni Non vi preoccupate A step In inglese Shakerare La soluzione Applicarla Come se fosse Un eyeliner Il pennellino Comunque È abbastanza Comodo Prelevo appunto La frangia Di ciglia finte Non c'è scritto Di aspettare E quindi io vado Direttamente E carie care Mi sa che sono Proprio magnetiche Non so se riuscite a vedere Che ci sono Dei piccoli magneti La frangia Di ciglia Non avete problemi Prenderla Riprelevarla Ritoglierla Eccetera Perché appunto Ha questi magneti Nel momento in cui poi Andate ad applicarle Sono facili Da applicare Probabile che mi convertirò Vabbè Adesso Questa è tanta roba Sono tante Per me Per il mio gusto personale Sono molto Dramatic Però molto belle Ma io non lo so Carie care Ma a questo punto Sono una youtuber Troppo vecchia Ma scusate Se lo sapevo prima Mi prendevo solo Le ciglia magnetiche La facilità di applicazione È stata devastante Tra l'altro Questo eyeliner È molto bello Anche lo scovolino È molto molto sottile Quindi praticamente Una linea sottile Che vada a camuffare Un pochino Lo stacco Di ciglia finte Comunque Così Dramatic Molto bene Siamo arrivati Al momento Delle labbra Boom Non c'è qualcosa Di sciglem A livello labbra Che mi abbia mai Fatta impazzire Ecco E siccome Non ho mai provato Questa cosa qua Che è il Peel Sulk Lip Tint Adesso procediamo Quindi questa qui È una tinta Peel off Sembra proprio Sanguigna C'è anche proprio Coagulato Ok cari e cari Di preciso Non so cosa ho fatto Fatto sta che Ce l'ho anche sui denti Ah Ragazzi Vi colora i denti Aiuto Soro vado via One eternity later Se parlavo Che sono rimasta così Un'ora Se parlavo Tutti i denti Mi diventavano rossi Adesso c'è scritto Che è peel off Io ho un po' paura No non so Se mi piace Questo ragazzi In che senso Aiuto Poi lo tolgo Ok Sono dovuta andare Un po' con l'unghia Perché se no Non si toglieva Però Ok Ok Potete grattarla Un pochettino Poi si toglie Ok Va bene Pensavo Fosse più difficile Devo togliere Anche i residui Qui Allora cari e cari Come vi dicevo Potreste ritrovarvi A dovervi pulire i denti Perché io proprio avevo paura Che mi colorasse anche i denti Considerando che Direi che colora parecchio Questo affare Quindi Si Colora Fin qua ci siamo Non so Se mi piace Nel senso Che il colore è molto bello Cioè guardate che acceso Che è E Eh si Beh più o meno Immaginavo fossero Transfer ma forse Forse lo devo lasciare Asciugare ancora un po' Non lo so Non so se è un prodotto Che utilizzerei Nel mio quotidiano Proprio perché Comunque devo rimanere Come vi ho detto lì In maniera strana E va sui denti Forse questo è il prodotto Boh del video Non che lui non funzioni Poverino Però è un po' Complesso Bene cari e cari E questo è il mio look Di oggi Con tutti i prodotti Più virali di Shiglam Mi raccomando Fatemi sapere Che cosa ne pensate Qui sotto con un commentino E anzi Facciamo un bel quiz Tra di voi Scrivetemi Qual è secondo voi Il prodotto più interessante Che vi ha incuriosito Maggiormente Di questo video Tutte le opinioni Io ve le ho date Durante il video Se dovessi scegliere E consigliarvi Proprio i must have Di Shiglam Ci sono indubbiamente Le creme Per il contour Per il blushing E attenzione Anche per l'highlighting Perché oggi Abbiamo utilizzato Questo prodotto virale Che mi è piaciuto tanto Però anche le creme A livello di highlighting Sono bellissime Vedete che roba Sono incredibili E ci sono diversi colori Vi ribadisco poi Il fondotinta Assolutamente di qualità E sicuramente Sono rimasta sbalordita Dalle ciglia finte Perché L'applicazione È facilissima Anche la matita Per sopracciglia Mi sento davvero Di consigliarvela Sia a livello pro Che a livello personale Vi troverete sicuramente bene Io come sempre Spero di esservi stata utile Sia per quanto riguarda Le diritte pro Che naturalmente Le opinioni 100% sincere Io vi mando Un grossissimo bacio E noi ci vediamo Nel prossimo video Bye Bye